Cosa rischiamo di non vedere di questa storia? Quello che rischiamo davvero di non vedere è il sistema di interessi che c'è intorno a queste persone e come vengono usate e strumentalizzate a loro volta per nascondere questo sistema di interessi. Il traffico internazionale di petrolio di contrabbando, penso anche allo stesso traffico di droga e naturalmente le pressioni politiche internazionali che i trafficanti riescono a fare su paesi come l'Italia o in generale sull'Europa per drenare denaro, legittimità politica, appoggi, accordi anche indicibili per poter gestire, diciamo tenere sotto scacco interi territori. Al prezzo naturalmente di gravi violazioni dei diritti umani che avvengono in qualche modo con il consenso dell'Italia e dell'Unione Europea che nominalmente contrastano questi fenomeni ma che in realtà sono costretti a negoziare con queste milizie. C'è un'industria, quella delle armi, che in Italia non ha conosciuto crisi durante il Covid. Quanto pesa sulla coscienza dei nostri governi questo aspetto? Pesa soprattutto direi il silenzio che c'è intorno a questi affari. Sono affari legali, legittimi perché avvengono con le autorizzazioni di Stato. Eppure anche il Parlamento tante volte non è messo al corrente di che genere di esportazioni avvengono, come sono autorizzate e in quali paesi andranno. E si dimentica soprattutto di dire quali sono le ricadute in termini di diritti umani da una parte e anche di flussi migratori dall'altro. Per cui mentre noi discutiamo su accogliere, soccorrere sì oppure no, altri invece continuano a fare affari che sono lucrosissimi nei teatri di guerra che purtroppo continuano a crescere. In questo momento nel mondo ci sono oltre 80 milioni di profughi di guerra e da quello che ci dicono le Nazioni Unite non si è mai registrato un numero così alto neanche durante la Seconda Guerra Mondiale.